Oggi siamo a Milano, un giorno molto importante in cui Vodafone incontra la stampa ma anche tantissimi clienti per raccontare loro cosa abbiamo fatto ma soprattutto cosa faremo nel mondo dell'Internet of Think e del Machine to Machine. E' un momento molto bello e molto importante per Vodafone, in particolare per Vodafone Italia, pensate che gli oggetti connessi alla nostra rete sono cresciuti di circa l'80% anno su anno e la nostra quota di mercato è il 46% quindi una grande positività, un grande fermento. Sempre di più Vodafone diventa centrale nelle strategie dei nostri clienti perché attraverso questa tecnologia possiamo fornire soluzioni che permettono loro di fare ancora più business, ancora più business di successo differenziandosi sul mercato. Quindi alla fine è una grandissima e bella giornata di positività e di fiducia per il futuro. Il mercato Machine to Machine non è più il futuro, è il presente e quest'anno abbiamo molti nuovi prodotti e sono molto felice che noi Vodafone siamo i leader di questo mercato. Anche l'integrazione di Cobra che noi abbiamo comprato l'anno scorso è andata molto bene e siamo adesso anche un leader nel settore di Connected Car. Allora il mercato è qui ma il futuro sarà anche molto interessante.